Amici e amici di Rossini TV, benvenuti. Secondo appuntamento con WePesaro TV sulla nostra emittente, canale 633 del Digitale Terrestre, tutti i sabati alle 13.30, l'approfondimento sui fatti della settimana, su tutto quello che l'amministrazione del Comune di Pesaro ha effettuato, ha fatto durante questi giorni e di cui ci piace parlarne insieme a qualcuno, ovviamente, che rappresenta l'amministrazione di Pesaro. In questo caso oggi abbiamo l'assessore Enzo Belloni che salutiamo. Buongiorno. Grazie, assessore Enzo Belloni, assessore all'operatività. È una persona molto conosciuta in città perché appartiene al tessuto della città. Enzo Belloni è entrato, come si diceva, nel 2009 a far parte dell'amministrazione della Giunta Comunale di Pesaro e siamo arrivati nel 2021. C'è, mi pare, con ottimi risultati Enzo. Sì, sono soddisfatto della sfida intrapresa nel 2009. Era partito quasi per gioco, anche se è una cosa molto seria questa, però con uno spirito decisamente civico e con una mentalità competitiva mi sono messo in gioco. Mi piace, devo dire che lo faccio con soddisfazione e si continua. Una sana mentalità competitiva perché in realtà Enzo Belloni è conosciuto, l'abbiamo detto, è amico di tante persone. Per certi versi lo possiamo definire trasversale, in quanto è comunque un personaggio che rappresenta la politica, ma rappresenta la politica in maniera estremamente libera. Libera e quindi con grande onestà intellettuale, con grande libertà e quindi è davvero un personaggio che piace a tutti. Ci sentiamo di dirlo perché effettivamente così è, ti conosciamo da ben prima anche del tuo avvento con il Comune di Pesaro e tutta la sua storia. Enzo, veniamo ai fatti. Quindi tu sai che WePesaro TV si occupa della settimana, si occupa di quello che avviene durante la settimana nella nostra città, di quelle che sono le iniziative del Comune, di come il Comune si interfaccia con i cittadini. E per esempio ne abbiamo avuto un bellissimo esempio questa settimana, proprio ad inizio della settimana, quando se non sbaglio martedì il sindaco Matteo Ricci, insieme a te, ha visitato due quartieri molto importanti della nostra città, anche perché sono i quartieri per certi versi estremi, i quartieri più lontani, Villa Fastigi e Villa Ceccolini. Ecco, vediamo qui alcune immagini dell'incontro che avete avuto con i cittadini di quei quartieri. Questo è il bar di Villa Ceccolini, qui siamo a Villa Fastigi. Enzo, è stato un incontro molto costruttivo perché mi pare che siamo venuti fuori molte iniziative, molte idee e avete annunciato anche delle questioni importanti. Sì, devo dire che questi incontri che stiamo facendo con i quartieri, anche ieri siamo stati su Colline Castelli, quindi abbiamo incontrato i cittadini di Trebi Antico, Santa Mera della Razzilla, e in particolare il martedì invece abbiamo fatto visita a Villa Ceccolini e Villa Fastigi, sono due quartieri importanti della città e dove è venuto fuori, insomma da parte del sindaco, ha annunciato alla stampa i cittadini che erano lì, l'impegno da parte dell'amministrazione di investire con l'avanzo di amministrazione che andrà in consiglio, il prossimo consiglio utile il 29 novembre, la volontà di riqualificare gli interquartieri, un tratto stradale importante che non era mai stato rifatto dopo la realizzazione, si tratta complessivamente di un intervento di 400 mila Euro da destinare alle rotatori e alla strada, e questo oltre al milione e mezzo di interventi fatti sul comune, più 800 relativi al patto con Monte Ciccardo, quindi 2 milioni e 300 mila Euro di asfalti già messi in campo nel 2021 per le vie cittadine, ci sono questi ulteriori 400 mila Euro perché hanno un nome, un cognome, un titolo che è interquartieri, è una strada dove passano migliaia di macchine ogni giorno ed è un lavoro di asfaltatura molto più impegnativo rispetto agli altri perché richiede un asfalto drenante e uno spessore molto più alto, quindi anche la cifra impegnata è una cifra importante. Sì, l'interquartieri chiaramente per chi conosce la nostra città sa benissimo di cosa si tratta, è una via che ha cambiato letteralmente la viabilità di Pesaro. Cioè se una volta ci volevano 20 minuti per arrivare in centro dal casello dell'autostrada, da quando esiste l'interquartieri questo problema non c'è più, quindi è veramente un'arteria importantissima ed è un'arteria che è andata a toccare proprio la vita quotidiana di tutti noi, così come la vita quotidiana di tutti noi è toccata da un altro aspetto che avete affrontato, soprattutto se non sbaglio a Villa Ceccolini e a Villa Fastigi, la pista ciclabile. La viabilità su due ruote, la ciclabilità della città di Pesaro che come sappiamo è all'avanguardia nazionale. Sì, rispetto al collegamento Villa Fastigi e Villa Ceccolini noi abbiamo un primo bando che ci siamo aggiudicati, si chiama Move on Bike e che ci permetterà di raggiungere il lago Pensierini che si trova all'estremità di Villa Fastigi, diciamo a metà tra Villa Fastigi e Villa Ceccolini e sarà un percorso ciclabile che viaggerà lungo l'argile del fiume. Stiamo assieme ai tecnici del comune, spinti fortemente dal sindaco, ci stiamo preparando per presentare un progetto di collegamento ciclabile lungo la Monte Labattese che ci porterà direttamente fino a Villa Ceccolini. È un intervento previsto attorno ai 3 milioni di euro, quindi sarà un'opportunità che dovremo essere capaci di prendere nel momento in cui usciranno dei bandi. Nel frattempo abbiamo lavorato anche su due proposte di collegamento all'interno di Villa Ceccolini che collega la parrocchia, l'area della chiesa, per chi conosce Villa Ceccolini, all'area commerciale del paese e si sta ipotizzando una ciclabile che passa o sul lato interquartieri o sul lato Monte che ha un costo ipotizzato attorno ai 500 mila euro che comunque diventa decisivo per la qualità della vita del paese. Certo, poi piste ciclabili chiaramente significano queste propagini cittadine, abbiamo detto Villa Fastigi e Villa Ceccolini che sono fieri di appartenere alla nostra città, ma magari in certe situazioni ci si sentono lontani quindi attraverso un intervento del genere diventerà ancora migliore l'integrazione ma poi di piste ciclabili se ne parla molto anche in un'altra zona della città, sempre in una zona importantissima qual è quella di Vismara? Esatto, il collegamento Vismara-Torraccia, quindi due pezzi di città attualmente divisi dalla linea ferroviaria saranno collegati da un anello ciclabile che ci porterà dall'area che a noi ci piace chiamare strada del Famila e quella di collegamento che abbiamo sviluppato tra Vismara e Cattabrighe lungo tutto via Liri e via Lambro e questa gode di un finanziamento in più abbiamo portato in giunta, approvato un progetto già finanziato anche il collegamento che ci sarà proprio direttamente tra i due quartieri, tra Vismara e Torraccia parliamo di un sottopasso realizzato sotto la linea ferroviaria per il quale abbiamo già ottenuto tutte le autorizzazioni e i terreni necessari per fare l'esproprio e questo collegamento ci permetterà di arrivare alla zona commerciale di Torraccia e di conseguenza collegarci con la ciclabile che si trova lungo il fiume e arrivare fino al mare abbiamo già fatto la gara della ponte ciclopedonale ciclabile che rientra all'interno del bando delle periferie per un importo di 4 milioni di euro che è quella che ci porta dal quartiere di Tombaccia fino alla zona del Parco 25 Aprile quindi ci collegherà con la zona mare quindi la città sarà completamente collegata. Nel frattempo sono stati approvati i progetti e stiamo andando in gara anche per la famosa ciclovia adriatica che è la ciclabile che ci porta da Colombarone a Gabice quindi altri chilometri di rete ciclabile che ci portano ad avvicinarci ai famosi 100 chilometri che vorremmo raggiungere da qui alla fine del mandato La ciclovia adriatica che chiaramente collega in realtà tutta la costa adriatica e nella teoria parte da Trieste per arrivare praticamente a Otranto e sarà un'opera straordinaria che metterà l'Italia davvero al centro dell'Europa anche da un punto di vista proprio di cicloturismo e mi viene da dire che anche se qualche volta noi vediamo sfrecciare Enzo Belloni in centro a Pesaro sul suo personalissimo monopattino però sappiamo anche che tu hai una bicicletta che ci hai detto che ha proprio nel suo contachilometri già 7300 chilometri Sì, negli ultimi due anni abbiamo fatto fatto con una bici dalla città 7300 chilometri anche perché io abito a Pantano quindi se devo andare in centro faccio molto prima in bicicletta piuttosto che prendere la macchina e cercare un parcheggio la bici funziona in città, ce lo riconoscono un po' tutti quelli che vengono da fuori sono molto meno critici dei pesareggi perché in fondo l'erba del vicino è sempre più verde ma per tutti Nemo profeta in patria e devo dire che anche conoscendo gente grazie allo sport che ci metti in contatto con persone che vengono da altre città d'Italia tutti rimangono favorevolmente impressionati dalla facilità con cui riusciamo a muoverci in città tant'è che facendo l'amministratore avendo una vita molto viva sui social mi capita di leggere e anche di rispondere quando a Pesaro ci sono 10 minuti di fila sembra che è successa la fine del mondo invece per chi viene da un'altra città è praticamente un modo per fare una telefonata in tranquillità Verissimo, infatti torniamo anche qui all'Interquartieri non dimentichiamoci che prima che ci fosse l'Interquartieri era veramente difficile la viabilità a Pesaro quindi da 10-15 anni è totalmente cambiata Enzo, ci sono anche chiaramente altre cose che convergono sulla tua persona vediamo spesso il nome di Enzo Belloni legato ai cantieri, legato ai lavori a tanti aspetti della nostra città che sono in fase di rimodernamento e ce ne sono 3 o 4 che sono un po' sotto gli occhi di tutti ovviamente il vecchio Palace ovviamente il cavalcavia sopra la stazione del Miralfiore ovviamente l'ex tribunale ecco, ci puoi dare a grandi linee un punto della situazione su questi cantieri, virgolette, aperti? Sì, devo dire che è una città che negli ultimi anni ha spinto molto questo anche grazie al lavoro che il sindaco ha fatto rapporti che siamo riusciti ad avere con Roma la capacità degli uffici di intercettare risorse comunitarie, nazionali, regionali quindi c'è stato un grande lavoro di squadra e ovviamente quando si fanno tante cose ci sono situazioni che vanno con un filo di gas come si dice, molto facili altre situazioni oggettivamente più difficili e poi chi fa tanto poi sbaglia anche perché non è che siamo perfetti, infallibili e va tutto bene ovviamente il Palazzetto dello Sport è uno di quegli interventi a cui teniamo più di tutti perché il Palazzo dello Sport è il cuore sportivo della città è stato il cuore economico della città perché c'è stata la mostra del mobile partita da lì è preso la città della musica ma dobbiamo ricordarci che gli eventi musicali più importanti si facevano al vecchio Palazzo dello Sport ci ricordiamo concerti negli anni 70-80 il cantagiro di tutto di tutto quindi il Palazzo dello Sport è in più il ROF il Rossini Opera Festival e io ricordo sempre che se entravi al palazzetto due giorni prima dell'inizio dell'allestimento del Rossini Opera Festival e la visione se ti portavano bendato due giorni dopo dici dove sono? non ti rendevi conto che eri da come riuscivano a modellare quel contenitore e a renderlo bello e fruibile per un evento importante come il Rossini Opera Festival ha dato quella cosa lì esatto abbiamo deciso di intervenire sul palazzetto e il palazzetto non sarà solamente un impianto sportivo ma è un contenitore di eventi culturali, musicali, convegni perché noi abbiamo la Vitrifrigo Arena 11.000 posti poi un contenitore da 1.500-2.000 per convegni con gli alberghi a 200 metri non c'è tant'è vero che qualche imprenditore ci ha già visto lungo è certo il palazzetto sarà un contenitore che dovrà rispondere a tutte queste esigenze diventerà una sorta di contenitore di pubblico spettacolo un vero e proprio auditorium esatto direi che potrà essere oltre a quello di Milano oltre a quello di Roma un vero auditorium per la musica anche dal punto di vista dell'impiantistica noi dopo il primo progetto che abbiamo sviluppato abbiamo voluto implementarlo dal punto di vista energetico e quindi dopo l'esperienza della Scuola Olivieri abbiamo cercato di aggredire le risorse del GSE che è il gestore dell'energia e abbiamo rischiato abbiamo messo sul piatto altri due milioni di euro destinati all'efficientamento energetico perché avere un palazzo dello sport completamente ristrutturato ma con caratteristiche tecniche ed energetiche vecchie non ci sembrava la cosa giusta diciamo che questa sfida l'abbiamo vinta perché il GSE ci ha riconosciuto un milione e 750 mila euro per l'intervento che abbiamo fatto quindi contributi che arriveranno per sostenere l'intervento al palazzetto nel frattempo dalla progettazione alla realizzazione sono cambiate le norme perché poi c'è stato il terremoto del 2015 quindi è stato ulteriormente implementato dal punto di vista strutturale rispetto alla sismicità dell'edificio anche perché nel piano di protezione civile il palazzetto dello sport è uno di quei luoghi dove la popolazione si deve radunare in caso di... e di protezione civile parleremo fra un po' fra un po' quindi il palazzetto è una bella sfida è una sfida non facile è difficile che ci ha portato ad allungare i tempi in maniera importante quindi non è che... però è un lavoro che sono sicuro ci darà grandi soddisfazioni in poche parole vale un po' il concetto magari mettiamoci qualche tempo in più ma facciamolo veramente bene mi sa che l'obiettivo sia proprio questo quello devo dire che i tecnici che ci hanno lavorato stanno lavorando pensando che fosse la loro casa quindi tutti quegli accorgimenti che poi costerebbero il doppio non si riuscirebbero a fare in un secondo momento li abbiamo pensati da subito Enzo gli argomenti sono tanti molto velocemente proprio due battute sulle altre due situazioni che ti avevo anticipato prima Cavalcavia Miralfiore? Cavalcavia Miralfiore è anche questo un intervento che abbiamo programmato da tempo abbiamo fatto delle indagini strutturali serie per capire qual era la situazione del Cavalcaferrovie ci hanno detto che i parapetti dovevano essere sostituiti per questo abbiamo incaricato un progettista abbiamo incaricato un progettista illuminotecnico e siamo partiti con i lavori nel frattempo è uscito un bando del Ministero degli Interni relativo a ponti per 3 milioni abbiamo partecipato a questo bando la risposta è arrivata qualche mese fa e abbiamo avuto 3 milioni di finanziamento dal Ministero degli Interni per la riqualificazione del ponte noi nel frattempo però eravamo partiti con una parte di lavori per rendere le corsie in uscita dal ponte riaperte a 4 e abbiamo fatto un primo stralcio di lavori per complessivi 300 mila euro ora però aspettiamo gennaio per avere le risorse del Ministero e fare un appalto unico e terminare il lavoro sull'ex tribunale invece ci siamo dovuti fermare perché c'è stato un contenzioso con la ditta nel frattempo devo dire che sia il sindaco Ricci che il vice sindaco Vimini sono stati bravissimi ad avere un'interlocuzione col Ministero e con Franceschini in particolare e avere il riconoscimento per Pesaro e portare a Pesaro il museo della motocicletta questo ci ha permesso di avere un ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro di rivedere il progetto e di partire a breve con una riqualificazione dell'ex tribunale nell'ottica di museo nazionale della motocicletta quindi in Italia non ci sono ci sarà Pesaro fantastico questa è una bellissima cosa che ci dici ci piace ricordare che tu hai parlato di riconoscimento questa è stata una settimana importante perché in una delle scuole di Pesaro che porta peraltro il nome di uno dei personaggi di Pesaro più noti di sempre il professor Antonio Brancati un'istituzione della città purtroppo è venuto a mancare a 98 anni ci ricorderemo 4 anni fa ma veramente a lui è legata la cultura della città di Pesaro ecco questa scuola che si chiama Brancati che ha ricevuto un premio molto importante addirittura a livello europeo sì è una scuola che ottiene di continuo riconoscimento anche perché dal punto di vista energetico diciamo siamo al top si chiama Enzeb dove tutto si recupera anche non si aprono le finestre in teoria perché all'interno dell'aula il sistema ti permette di monitorare l'aria interna è di gestire l'ingresso e l'uscita dell'aria con lo stesso principio lavoreremo anche sulla palestra della scuola per la quale abbiamo fatto la gara abbiamo una dita che si è aggiudicata i lavori e in primavera inizieremo a lavorare un intervento su un impianto sportivo di 3 milioni e 260 mila euro una palestra con tutte le omologazioni con 200 posti a sedere quindi un'interiore implementazione dell'offerta sportiva della città ma qui si tratta proprio di un premio europeo che è stato consegnato alla scuola in occasione peraltro adesso della COP26 e quindi mette praticamente la scuola della città di Pesaro fra le 18 migliori in questo progetto a livello internazionale di riqualificazione ambientale si stiamo prendendo un altro la prossima settimana quindi un riconoscimento continuo al lavoro che è stato fatto dai nostri tecnici ripeto e che sarà diciamo il filo conduttore anche dei prossimi interventi che andremo a sviluppare allora mi verrebbe da dire Enzo invitiamo Greta così gli chiudiamo la bocca e gli facciamo vedere come la città di Pesaro risponda sulle scuole è importante sottolineare che abbiamo ulteriori 6 milioni e 600 mila euro per rifare la scuola la scuola media Dante Alighieri e quindi anche anche questo è un altro segnale dopo decine di anni che non si costruivano scuole nuove nel giro di 5 anni forse riusciremo ad inaugurare due scuole nuove una scuola la scuola media olivieri la nuova Brancati perché si chiama Brancati e la nuova scuola Dante Alighieri che vedrà l'inizio dei cantieri pensiamo indicativamente alla fine di quest'anno scolastico peraltro appunto parlare in questi toni di scuola quando sappiamo tutti i problemi che ci sono stati conseguenti alla pandemia questi ultimi 20 mesi è veramente un grandissimo segnale mirato ai giovani mirato al futuro Enzo ci spostiamo leggermente in un'altra zona della città che è nelle vicinanze pur facendo parte del nostro comune pur essendo amatissima da tutti i pesaresi per tanti motivi fra cui anche l'ottimo cibo che ci si può mangiare Novilara Novilara ha un cimitero che è stato al centro di qualche polemica che però adesso mi pare che il comune abbia deciso davvero di riqualificare Allora noi ci siamo impegnati ad intervenire perché è giusto che sia così e non solo nel cimitero di Novilara ma ci sono altre situazioni non belle anche negli altri cimiteri periferici abbiamo iniziato un percorso e nel bilancio 2021 abbiamo stanziato 400 mila euro per il padiglione dei fiori nel cimitero centrale per il quale abbiamo ristabilito l'agibilità nel periodo delle festività dei defunti e già da lunedì prossimo riprenderà il cantiere c'è la volontà di inserire nel bilancio 2022 le somme necessarie per fare quella manutenzione straordinaria che è di competenza comunale vi ricordo che i cimiteri sono la gestione è ad Aspes la manutenzione ordinaria in carico ad Aspes mentre la manutenzione straordinaria in carico all'amministrazione comunale quindi capiamo che questa è una situazione sulla quale dobbiamo intervenire perfetto e quindi questo è un altro segnale fondamentale di come possiamo dire anche di distensione di volontà di affrontare i problemi e non solo di sentirseli riflessi Novilara che poi è al centro dell'attenzione anche per un'altra questione per una questione prettamente legata alla storia io direi di vedere adesso il servizio che abbiamo fatto qualche tempo fa che riguarda il museo archeologico di Novilara per inquadrare meglio la questione di cui intenderemo parlare fra pochi minuti con Enzo Belloni dopo un percorso ad ostacoli trascinato dal 2014 ad oggi il museo archeologico Oliveriano di Pesaro scruta finalmente un cronoprogramma di riapertura per i primi mesi del 2022 è questa la tempistica fissata dal comune di Pesaro anche grazie all'ultimo decisivo passaggio nel recente consiglio comunale il restyling si completerà nell'anno nuovo ma a Palazzo Almerici i lavori sono quotidianamente in corso con un riassetto già in via d'ultimazione per quelle che riguarda il nucleo dedicato alla Pesaro romana che ci viene anticipato da Brunella Paolini ci troviamo infatti nella sala romana del museo archeologico che è la sala nella quale sono stati svolti i recenti lavori ad opera del comune di Pesaro con la ditta Start di Roma e con la responsabilità scientifica della dottoressa Chiara Del Pino e ovviamente sempre in accordo con la soprintendenza archeologica delle Marche e sì quella che vediamo oggi è un piccolo anticipo un'anteprima di quello che sarà poi in effetti il museo archeologico Oliveriano che verrà messo nei tempi che poi verranno definiti a disposizione di tutti dei cittadini dei turisti di tutti coloro che vorranno visitarli e ci troviamo in questo angolo che è riservato a delle memorie che raccontano della vita pubblica e della vita privata pesarese in questo lato abbiamo il ricordo di alcuni monumenti che a Pesaro non esistono più e soprattutto il ricordo di alcuni benefattori della città di Pesaro tra gli altri ricordo Gaio Tizio Valentino che donò alla città di Pesaro con un lascito testamentario addirittura mille sesterzi molti dei quali destinati alla organizzazione di giochi gladiatori nell'anfiteatro pesarese da quest'altra parte invece possiamo vedere alcune testimonianze delle decorazioni che abbellivano le domus le antiche domus anche queste scoperte nella città di Pesaro e potete vedere infatti alcuni mosaici e un brano un piccolo frammento di un affresco più lunghi i tempi di allestimento dell'area dedicata alla necropoli di Novilara ma gli ultimi fondi derivati dalla variazione di bilancio in consiglio comunale consentiranno la restituzione alla città di un museo che si presenterà in versione ampliata e rinnovata siamo riusciti anche grazie all'ultima variazione di bilancio votata dal consiglio comunale a mettere gli ultimi 100 mila euro diciamo che andando ad aggiungersi a 70 che avevano accantonato quest'anno permettono di completare l'ultimo stralcio cioè l'affidamento della progettazione e dei lavori dell'allestimento perché la parte edile e impiantistica invece è già a posto della sala diciamo di Novilara quindi la parte preistorica della necropoli di Novilara questo lavoro appunto ci permette oltre questo anche di ampliare di fatto il museo perché il museo così come tutta la struttura in realtà non aveva bagni pubblici non aveva accessi di desk o di armadietti per le scolaresche e vi dicendo quindi per questo oltre al museo nella pianta che conoscevamo insomma quello che si sviluppa a destra entrando a Palazzo Almerici si amplia anche dell'ala sinistra che appunto sarà destinata all'accoglienza del pubblico all'accoglienza delle scolaresche ai servizi igienici per la struttura insomma quei luoghi e bookshop quei luoghi un po' di conforto che servono a museo che non volevamo togliere in termini di metratura dalla parte invece iniziale appunto quella di Piceni di Nuilara che avrà tutto il respiro dovuto in questi giorni nonostante agosto stanno andando avanti il lavoro riprenderà ancora più nel dettaglio a fine agosto per l'ultima parte dell'allestimento della parte appunto cosiddetta romana e appunto siamo fiduciosi di poter completare invece la progettazione dell'assegnazione dell'ultima parte dei lavori complessivamente appunto un importo di 170 mila euro entro i primi con la realizzazione della consegna già entro i primi mesi del 2022 per una riapertura definitiva e sicuramente innovativa e immaginiamo molto apprezzata dei pesaresi ma anche dei turisti e dopo aver visto il servizio Enzo quindi abbiamo questa realtà cittadina questa realtà in pieno centro di Pesaro che prevede la possibilità di visionare 2600 io ho preso degli appunti 2600 oggetti esposti provengono dalla necropoli romana di Novilara c'è la celebre stelle di Naomachia che addirittura risale al VII-VI secolo a.C. fa vedere delle scene di vita legate alla storia del proprio al mare a quello che era la città di Pesaro legata al mare ecco una grandissima opportunità anche quella del museo archeologico che dovrebbe essere riaperto all'inizio del prossimo anno di potenziare l'offerta culturale turistica della nostra città sì anche questo è un'eccellenza del nostro territorio abbiamo tante cose da far vedere a chi viene in città il museo liveriano è uno di quelli dopo tanto tempo si riaprirà martedì porteremo in giunta due delibere relative a due interventi uno rispetto alla parte museale e l'altro rispetto all'ingresso e ai servizi e contiamo ripeto entro poco tempo di riaprire almeno parte del museo l'area del palazzo almerici quindi dell'oliveriana è uno di quegli interventi che rientra tra i bandi a cui abbiamo partecipato assieme ad altri contenitori come palazzo mazzolari per esempio per i quali stiamo aspettando la risposta di un finanziamento importante che contiamo di prendere siamo stati fino adesso bravi ad intercettare le risorse e penso che continueremo ad esserlo sicuramente anche perché poi la valorizzazione di queste eccellenze cittadine veramente fanno piacere a tutti fanno piacere a chi viene a Pesaro per tanti motivi per turismo per lavoro a visita nella nostra città ma noi stessi pesaresi siamo veramente ancora più motivati dal sapere che esistono per esempio facciamo l'esempio recente del museo Rossini in via Passeri di tutto ciò che si può vedere al palazzo Mosca quindi effettivamente sono delle opportunità di cultura importanti certo anche se però devo fare un appunto molti pesaresi non ci vanno esatto nel senso che molti non conoscono dai per scontato che è una cosa bravo ce l'hai la conosci e questo può essere magari anche un invito un pomeriggio che uno non sa che cosa fare si fa un giro si fa si riscopre inizia a riscoprire un pochino la città che magari molti sono dalla gita di seconda media o di terza media che non fanno un passaggio ai musei anche perché se vi ricordate l'anno scorso una scuola pesaresi ha avuto un'idea geniale quella di fare la gita scolastica a Pesaro quindi vedevamo il centro di Pesaro invaso dalla scolaresca dai ragazzi che ammiravano e potevano vedere con i loro occhi cose che magari appunto come dicevi io e te che siamo sempre in centro delle volte non ci pensiamo è incredibile quindi davvero è un appello ai pesaresi di visitare la nostra città sì perché io direi che bisogna visitare la propria città anche perché sei in grado di raccontarla molti parlano invece raccontano per sentito dire quindi c'è questa abitudine di dare per scontato tante cose che non si sanno non si conoscono non si sono mai viste ma magari il tuo vicino di casa te l'ha detto allora tu per non fare la figura fai finta che in qualche modo si dice ma dopo si capisce subito che non l'hai mai visto non ci sei mai stato e mi capita spesso è capitato anche a me di dare per scontato alcuni posti poi dici ma io qui però non ci sono mai stato non mi ricordo e poi ci vai per curiosità quindi alimentare la curiosità fa bene fa bene chiudiamo con l'ultimo argomento oggi pomeriggio alle 15 ci sarà un avvenimento importante in città perché tu l'hai quasi preannunciato prima quando hai detto che il nuovo Pala sarà uno dei punti di raccolta per quello che riguarda le esercitazioni di protezione civile ci piace ricordare che la protezione civile è una eccellenza davvero italiana ha una lunghissima storia la protezione civile nasce all'inizio del secolo poi evolve in tanti modi addirittura viene destinata all'intervento all'estero talmente è stato riconosciuto alto il suo valore dal 2018 c'è una carta della protezione civile fatta di una cinquantina di articoli che ne determina tutte quelle che sono le possibilità di intervento ecco oggi pomeriggio c'è una festa importante alla quale tu presenzierai sì abbiamo deciso di presentare alla città il piano di protezione civile comunale che è un atto importante condiviso con la prefettura ovviamente votato in consiglio comunale che ti dà le indicazioni necessarie in caso di terremoto di maremoto è tutto previsto all'interno di questo documento non a caso la protezione civile nasce nel vero diventa visibile con l'alluvione di Firenze con il terremoto del Friuli cioè con tutte situazioni che effettivamente hanno fatto hanno trasformato in pratica ciò che prima era teorico o disorganizzato poi nel tempo è confluita proprio a essere una struttura riconosciuta addirittura dal servizio sanitario nazionale nel 1992 e lì rientra io devo dire che a Pesaro c'è un forte spirito di solidarietà da parte di chi ha aderito e di chi sta aderendo alla protezione civile questi mesi di covid li hanno messi diciamo in prima fila per fare la spesa per gestire i tamponi per gestire l'area vaccini per andare a prendere la gente a casa quindi e dici quando c'è da fare molti fuggono invece non ero niente molti sono arrivati abbiamo avuto un incremento delle adesioni delle iscrizioni tant'è che vorremmo modificare il regolamento parliamo di volontariato volontariato assoluto di volontariato la benzina adesso i nostri volontari stanno facendo stanno andando a Fano a gestire il punto tamponi perché i volontari di Pesaro lavorano gratis con le altre città non lo so i pesaresi lavorano gratis anzi si pagano la benzina loro per andare a Fano e abbiamo un sacco di gente che si vuole iscrivere e proporremo al consiglio comunale di ampliare la fascia di età perché adesso puoi entrare dai dai 18 anni quindi siccome ci sono un sacco di ragazzi intenzionati ci piacerebbe che venga approvata la possibilità di farli entrare a 16 anni ovviamente con un tutoraggio finché non sono maggiorenni e di portare a 80 anni l'età limite perché una persona magari a 77 78 80 anni si sente ancora in grado di dare una mano di aiutare nelle scuole ad attraversare i bambini di gestire una festa cittadina e devo dire sono questo è molto gratificante per noi e per loro e domani sarà un'occasione anche per far conoscere tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni e che continueranno a fare d'altronde che il senso civico degli italiani sia elevato è comprovato è comprovato anche da quello che abbiamo visto in questi mesi poi magari tutto può migliorare tutto si può fare meglio siamo d'accordo ma il senso civico degli italiani c'è il senso civico dei pesaresi è un'ulteriore dimostrazione di quello che significa far parte di una società Enzo io ti ringrazio ti ringrazio a nome della nostra emittente ti ringrazio a nome soprattutto di chi ci ha seguito perché è stato molto interessante abbiamo affrontato tanti argomenti invitiamo tutti i telespettatori e le telespettatrici a guardare se dovessero perdere la prima messa in onda della puntata le varie repliche ce ne sono tante a seguirci sui social lo diciamo anche a te Enzo quindi ci vedremo in televisione ma siamo anche molto contenti che veniamo seguiti attraverso tanti canali davvero grazie per il tuo intervento grazie a te e grazie agli ascoltatori grazie ancora appuntamento ci vediamo sabato 4 dicembre un buon saluto a tutti a tutti grazie a tutti